Salve, ritorniamo su The Division 2, siamo qui nel rifugio, ora andiamo nella prossima missione principale, se ce la fa fare, direi, non mi ricordo in quale zona sia, ah eccola qua, Fede del Triangle, dobbiamo fare questa, Museo Viewpoint. Va bene, io direi di vederci poi direttamente nella missione, allora siamo qua, non so se ce la farò da solo, vediamo, ci provo, vediamo un po' come va. Mia che è quello che muore, è muori. Muorici, allora, vediamo qua come, là c'è un cecchino che, non c'è più, allora, segnala, eccola, ok. Ok, ma l'amico qua, che cazzo fa? Ho visto alcuni ostili entrare nel garage a est dell'ingresso principale, potrebbe essere la tua via d'accesso. Non lo so, ci proviamo. Allora, dobbiamo andare di qua. Allora, veniamo di qua. Ok. Gruppo abbandonato. Eh va a fa' un culo, va. Agente necessita supporto. Radio nemica intercettata. Parla Wade. Quindi, la divisione pensa di poter entrare qui così. Non sanno con chi hanno a che fare. Nasconditi. Aspetta il segnale, quindi incastrali e uccidili. Equipaggiamo. Allora, vediamo un po' come... Da solo... Se ce la farò... Qui... Dovevo andare? Ah, di qua. Rifornimenti. Apriamo la porta. Olè. E la madonna. L'aglio di puntata. No, no, l'avviso. Mmm. Bene. Ehi copro! Aio! Ne cazzo sei? Ok Sembra tranquillo Allora Vedi qua Ok Qua c'è qualcosa No questa no Vieni qua Hmm Allora Vieni qua La funzione l'ho presa Allora Non mi fido Eh Capacca Potrebbero essere già qui Mmm Aspettate un attimo vediamo un po' La E' a terra Non mi fido No mi fido Vieni qua E' a terra E' a terra Non mi fido No mi fido E' a terra E' a terra E' a terra E' a terra Ehi, lì, lì ah ok speriamo con chi ti mi serviva ok ho rifornimenti ci riprendiamo carica elettromagnetica rilevata la prima che udere mamma mia bammedi bammedi e bammedi finish forse Dove il altro? Ok Ah, devo fare il giro di là Vabbè Sigillatelo Attaccate quello stile Ora sei in un gruppo Eh, sei bisogno di un gruppo Nuovo agente nel tuo gruppo Là Olè Difichiamo nel frattempo Allora io qua non so dove Eccoli là Allora Cazzarola c'è uno giallo C'è uno giallo Via Granata Attirate il fuoco lontano da me Non ho la visual Finiamo quella gente Olè Aspetta bro Dove cazzo vai Allora Vieni qua Vediamo cosa c'è qui Vai Vattene subito La cassa Doveva essere Wade Sarebbe stato bello farlo fuori Ma non è il tuo obiettivo primario Raggiungi lo studio televisivo E fa tacere questa gente Olè Ok 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 Ritare! Ti copro! Eh, devo ricaricare! Esci fuori! Ti butti giù! Sta vicino al modulo. Deve completare la sequenza di riavvio. State a riparo! Sei fottuto! Non è l'altrata! Lo distrugno io! Un agente si è unito al gruppo. Abbiamo il... È andato! È andato! Abbatteteli! Vado a fuoco! Vado a fuoco! La nata è in volo! Sì! Distruggetelo! Vado a fuoco! Devo finire il lavoro! Basta il giro! Basta il giro! Basta il giro! Merda! E a terra! Vado a fuoco! Vado e lo avversi! Basta! Torino a sanguinare! Non ho munizioni! Guardo le spalle! 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 comunicazioni sono in linea, mentre abbiamo silenziato i True Sons. Alimentazione locale e instabile. Sistemi di comunicazione offline. Ma che cazzo? Vedo numerosi nemici sul tetto. Stanno piazzando dei disturbatori e MP intorno all'antenna. Hey Wade, sta provando a sabotare l'antenna. Senza, nessuno potrà trasmettere da viewpoint. Agente, raggiungi il tetto. Devi impedirgli di mettere fuori uso l'antenna. E da dove? Nuovo agente nel tuo gruppo. Un agente lascia il gruppo. Di qua. Aspettiamo. Carica elettromagnetica rilevata. Wade usa dei disturbatori e MP per sovraccaricare l'antenna radio. Eliminali prima che la distruggano. Mal funzionamento del sistema. Integrità strutturale al 75%. Agente, devi fermare Wade. Quell'antenna ci serve. Projammere MP è in funzione. Non possiamo usare la tecnologia Shader. Neutralizzalo. Un agente si è unito al gruppo. Cazzo di piante. Integuità strutturale al 50%. Integuità strutturale al 50%. Granata! Non li vedo! Ok Vai così! Vai così! Eh, io stavo ricaricando! Guarda quello con lo scudo, quanto è figo! Dovremo cavarcela senza di lui! Ok, il processo è nostro. I trosson sono un importante mezzo per coordinare le truppe e diffondere le loro stronzate. Rimessa in funzione l'antenna radio, riusciremo a trasmettere in un'area più grande. Allora! Allora! E non dovevo ricaricare, ma va bene. Vabbè, io direi che per adesso basta così. Come va bene! I c'è! Oh, oh! Vabbè Io per adesso direi di finire qui Grazie per l'aiuto E me ne vado nella base E allora Torniamo alla base operativa Torniamo alla base Allora Andiamo qua Andiamo di sbloccare Un'altra abilità Cosa sblocchiamo? Io quasi quasi sbloccarei Se ho la torretta o il drone Anche lo scudo non è male lo scudo Ripriso interamente la grezza degli alati vicino In un atletato specifico Normalmente Eh quasi quasi Sbloccherei questa io Faccio questa e poi Sbloccherò le altre Eh di uno di uno Questa ne ho uno Non lo tengo Per adesso Fino a 100 minuti Sblocchiamo questa Ok Facciamo così E direi per adesso di fermarci qui Alla prossima Ciao ciao